Sara Averta che è inviata della Vita Indiretta alla trasmissione di Rai 1 di Alberto Matano che io ringrazio perché è una condivisione che ci ha concesso la Vita Indiretta e che ci ha concesso Alberto e la nostra collega Sara Averta è proprio sul luogo dell'ultimo omicidio della trans un omicidio avvenuto Sara intorno alle 13 di oggi, è corretto? Dove sei esattamente? Buongiorno intanto Allora sono proprio a via Gominizza, angolo via Durazzo, siamo alle spalle della Rai Milo e qui intorno alle 13 è stato scoperto appunto il terzo cadavere qui in zona Clodio questa mattina la mattanza delle ore 10.50, prima un corpo scoperto su un pianerottolo tra il primo e il secondo piano in via Ribotì, poi il secondo cadavere vicino nell'appartamento 8 al primo piano dello stesso palazzo, intorno alle 13 invece la scoperta di un terzo corpo qui in questa palazzina che appunto è vicino alla Rai, zona di uffici, zona di tribunale, zona appunto di società di produzione televisiva molto probabilmente Milo come avrai letto già dalle agenzie i tre casi sono collegati e si fa riferimento ma ovviamente si attendono i risultati di queste indagini che sono al momento in corso vedete che c'è la scientifica, probabilmente sono legati ad un giro di prostituzione al primo piano in particolare di via Ribotì pare che appunto si sussurra che ci fosse proprio un giro di prostituzione qui invece, e prego Fabrizio di seguirmi, vi faccio vedere a piano terra di questo palazzo, sono ancora in corso i rilievi c'è un appartamentino che non destava sospetti ecco in questo palazzo almeno per quanto ci risulta non si parlava di giri di prostituzione mentre a via Ribotì sono state uccise due prostitute di origine cinese qui invece è stata uccisa una trans di origine brasiliane ecco questo è il punto di osservazione più comodo per la nostra telecamera vieni Fabrizio, ecco vedete quell'appartamentino che dà su una deor con la tettoia mi sposto così, consente all'operatore di avvicinarsi meglio ecco vedete che c'è la scientifica in questo momento stanno ultimando i rilievi che come vi dicevo sono iniziati intorno alle 13 e sono in corso ecco Sara scusami la scientifica al lavoro le vittime sono state uccise tutte con un coltello me lo confermi, anche questa è un'indiscrezione che sta circolando esatto anche se appunto ancora sono poche le indiscrezioni che ci arrivano più che altro appunto si tratta di capire se si tratti di un serial killer cioè di una stessa persona di una persona che persegue questo scopo che è quello di uccidere delle persone che sono legate all'ambiente della prostituzione lo fa pensare il fatto che siano tutti e tre i cadaveri in qualche modo vicini a questo ambiente e peraltro a distanza di un chilometro al massimo perché l'abitazione di Dieribotida questa ultima dove è stato scoperto l'ultimo cadavere dista non più di 900 metri in linea d'aria perché stiamo parlando di un posto vicino al tribunale e di un posto invece appunto questo vicino alla sede di via Teolada la sede della RAI abbiamo un condomino qui senta ma non è che lei ha visto qualche volta dei movimenti strani qui al pieno terra? direi proprio di no, strani niente niente scusi ecco come vedete ancora diciamo che anche gli stessi condomini sono piuttosto scioccati beh certo è comprensibile tra l'altro molti non riescono ad uscire perché appunto il palazzo come vedete è tutto diciamo transennato ci sono i nastri di sicurezza tutto transennato esatto ci sono i nastri di sicurezza allora Sara ti chiedo un attimo ci spostiamo verso la polizia sì certo allora restiamo pure con le immagini con Sara però direttore Lautone direttore della pressa anche tu hai tutti i colleghi che sono in questi momenti impegnati a cercare di capire se sono degli omicidi collegati in qualche modo oppure no perché se sono collegati non è detto che siano finiti attenzione no speriamo di no è certo che è quello che stanno cercando di capire gli inquirenti che ancora non sono arrivati chiaramente a capire evidentemente se sono collegati certo la coincidenza è strana e certo è incredibile pensare che comunque c'è un killer sia se siano collegati che non lo siano perché comunque le persone sono state ammazzate in un quartiere di Roma che è un quartiere residenziale insomma appunto dove ci sono avvocati ricordava prima Sara è a un passo dalla RAI è di fronte alla RAI è inquietante questa cosa pensare che sia stata ammazzata in questo modo la trans in questo caso però anche nella parte in cui sono state ammazzate le due donne intanto è pieno di telecamere è pieno di telecamere sono strade controllate ovviamente per altri motivi non c'è solo la RAI ci sono anche altri emittenti no c'è anche la 7 credo sì c'è la 7 proprio l'elettro e sono tutti ovviamente edifici controllati da telecamere quindi il perimetro è è inquietante pensare che ci sia un killer e che sia successo è strana la coincidenza veramente strana non possiamo dire ancora niente ma è una coincidenza strana allora l'unico non voglio dire una cosa per un altro dottoressa Viola c'è un particolare che potrebbe far pensare che non sia la stessa mano ad averle uccise ma è una è un'ipotesi ovviamente anche se tutto farebbe propendere invece per questa teoria di solito chi va con delle prostitute in questo caso prostitute cinesi le due donne uccise pare fossero dedite alla prostituzione sicuramente erano cinesi questa è una trans sono generi diversi rispetto a quelli che possono essere i gusti di un cliente di solito un serial killer colpisce alla fine il suo ambito di frequentazione è ancora così come una volta oppure oggi? ma se proviamo a fare come al solito purtroppo una passeggiata nello squilibrio mentale perché ammettiamo che questi tre delitti siano collegati quindi che l'assassino sia uno solo dovremmo immaginare la questione morale sembra quasi un giallo di vecchie alla simenò la matrice comune di queste persone è che si vendono quindi in qualche modo esercito sempre la professione dello psichiatra quindi cerco di delirare offrono un affronto alla morale e questa sarebbe una matrice comune è chiaro che saremo di fronte a un delitto di natura meramente psichica Francesco Specchio sono convinto anche io che ci sia una matrice morale ma è un classico della narrativa criminologica cioè da Jack lo Sguardatore in poi cioè adesso giusto per fare le citazioni più alte ma è così cioè indipendentemente appunto dai gusti sessuali probabilmente l'assassino se si tratta di una stessa mano ma pare che per le cinesi sia la stessa per le cinesi sì perché sono nella stessa palazzina e anche la dinamica delle coltellate all'addome e poi tutte le uccise con coltellate però è tipico cioè gli assassini seriali che hanno questo tipo di afflato che è un afflato etico morale che viene proprio una sorta di ripulsione nei confronti dell'uomo e della donna prostituta questa cosa qui è una cosa classica diciamo quindi secondo me potrebbe se così fosse davvero vuol dire che c'è un serial killer potrebbe tornare e potrebbe tornare tranquillamente a colpire quindi è quello lui ha detto che abbia finito eh no quello è il dramma però evidentemente procede secondo un suo schema possiamo tornare chiedo scusa agli ospiti vi faccio parlare subito poi vicino guarda geograficamente anche cioè sì torniamo con Saraverta a cercare di capire qualcosa di più soprattutto di questa ragazza trans di questa trans che è stata uccisa e l'inviata alla vita in diretta Saraverta è proprio a pochi me lo vedete proprio sul luogo dell'omicidio Sara mi sembra di aver capito che non c'è conferma che questa trans si prostituisse soprattutto si prostituisse in quell'appartamento oppure sì c'è questa conferma vediamo se mi sente Sara no mi sembra no non mi sente e quindi possiamo restare con le immagini intanto cercare di ripristinare il collegamento audio con la collega e Monica Leofredi tu conosci benissimo queste zone questi quartieri sono zone come dicevi tu intanto con tantissime telecamere e poi anche bisogna vedere come importante gli orari anche perché questi sono ambiti anche di solitudine quindi sapere intanto se anche nella zona ci possono essere anche altri cadaveri perché queste ore in cui il killer ha potuto agire prima che appunto scattasse questo questo allarme bisogna vedere quando è iniziata la sua furia omicida se di killer e di serial killer soprattutto si tratta sono tutte domande estremamente pertinenti vediamo se possiamo ricollegarci con Saraverta l'inviata dalla vita in diretta di Alberto Matano che ringraziamo ancora per questa condivisione di mezzi Sara ecco intanto noi non sappiamo se era dedita alla prostituzione questa trans non c'è certezza di questo oppure si è arrivata conferma io purtroppo vi sento malissimo bassissimo tant'è che ho perso anche il primo collegamento di poco fa in cui mi hai chiamata puoi ripetere per cortesia la domanda scusami no figurati cerchiamo di ripristinare questo collegamento audio Sara c'è conferma che questa trans era dedita alla prostituzione e se si esercitava in quella palazzina abbiamo questo riscontro ecco questo no ed è proprio questo che stavamo verificando con i colleghi anche con qualche condomino in realtà non c'è questa conferma però ecco probabilmente la polizia ha già trovato degli elementi che collegano i due casi non fosse altro che appunto si tratta di persone comunque prossime a questi ambienti probabilmente anche se non è confermato loro hanno già degli elementi magari per delle segnalazioni signalazioni di polizia certo possono avere delle segnalazioni di polizia hanno sentito anche i condomini noi abbiamo cercato di con cui abbiamo cercato di parlare ma senza risultati non me la sento ecco di sottoscrivere che sia effettivamente una persona dedita alla prostituzione ma questo unicamente per collegare le trans di origine brasiliana pertanto dobbiamo attendere i giusti riscontri probabilmente qualche ora questo solo perché per mettere in collegamento i due uccidi intanto come vedete la scientifica si si Sara prego dicevi scusa no 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 per mettere ovviamente in collegamento i due uccidi intanto come vedete ci sono c'è ancora la polizia del caso si sta occupando la squadra mobile mentre operativa lì al piano terra che abbiamo visto prima la scientifica è andata via invece l'auto l'autoambulanza che era ferma qui probabilmente per verificare le condizioni di vita o meno della vittima che purtroppo appunto è stata ritrovata senza vita e ci sono ancora appunto dei contatti con i condomini del palazzo per verificare appunto le attività del piano terra sicuramente non era un centro massaggi così come si era detto inizialmente ecco questo lo possiamo dire è un appartamento privato non c'era nessun tipo sicuramente anonima non ci sono insegne quindi l'assassino conosceva la vittima perché altrimenti diciamo non poteva arrivare diversamente nell'abitazione Sara ti chiedo se ti è possibile di restare con noi nei limiti del possibile perché torneremo a collegarci con te nel corso della trasmissione anche per avere degli aggiornamenti c'era la dottoressa Viola forse voleva chiedere qualcosa una battuta se c'è qualche indiscrezione sulle condizioni dei cadaveri cioè se hanno ferite particolari che possono far pensare a un certo tipo di accanimento a un certo tipo di zone del corpo proprio particolarmente interessate dall'assassino Eh sì direi che l'accanimento c'è stato perché appunto soprattutto nelle indiscrezioni che riguardano la prima scoperta quella dell'appartamento numero 8 lì al primo piano di via Ribotì fanno riferimento ad un lago di sangue quindi a una perdita copiosa di sangue che lascia pensare a un accanimento però anche di questo non abbiamo notizie precise siamo ancora appunto ai primi rilievi perché considerate che sono fatti accaduti a distanza di poche ore fa insomma quindi qui addirittura alle 13 quindi siamo ancora alle prime verifiche sicuramente sembra che la presenza copiosa di sangue fa pensare a un accanimento Dottoressa Lottone di sangue Grazie a tutti.